Questa mia carne, la mia umanità, questa mia carne, Signore, a Te la dono, e la mia lunga pena e le mie mani ignude contro i rovi ed incapaci alla preghiera, le piaghe che fiorirono nel sole e il mio tormento inutile, ecco, ti affido. Poiché, Signori Dio, trovar non posso, uso migliore agli ari di miei giorni, a Te li dono, e Tu piega il mio capo, fammi Tua voce o perdimi, nel dubbio che mi macera e mi rode, Signore, non lasciarmi, in Te confido. Commento Aldo, quando è che hai scritto questa poesia? Secondo te quando ho sentito il bisogno di scriverla? Non lo so. L'ho scritta la prima volta che non ho potuto fare a meno di pregare.